allora sempre buonasera a tutti ripescaggio questa volta jazz ma doveroso che mi riallaccio alla precedente e recente video recensione di adn2x crystal castles and health pubblicata appunto un'ora e mezza fa sul mio canale presentando uno dei più creativi e più originali musicisti jazz contemporanei ovvero macaia mcgraven che è un batterista di origine francese oggi quarantenne che però 17 anni fa si trasferì a chicago e qui a chicago ha iniziato già proprio praticamente partendo subito in pompa magna per così dire già subito praticamente con ottimi dischi in nell'anno una serie di veramente di quasi capolavori uno dopo l'altro accasandosi principalmente come il caso ha voluto chicago il post rock quindi il post rock proprio di stampo tortoise e tutti derivati tortoise quindi che derivate sia altro giochi ma anche della tavistiche quindi anche con elementi dentro da camera come fred fred longholm che era un violoncellista che spesso gravitava in quei gruppi più anche diciamo certe esoterismi psichedelici alla san ra daniel givens per esempio mi viene in mente della estetics records per chi a memoria dovrebbe un po ricordare quei nomi e fin anche anche sui rex da yanuga insomma tutto quel calderone di nomi più o meno noti più meno noti che più noti perché poi quelli più noti si sanno appunto tortoise giuno fortifor eccetera più quelli meno noti che però anche loro ebbero il loro piccolo contributo seppur minuscolo nella crescita di tale genere per esempio penso anche il chicago underground trio e rob mazarek rob mazarek è un signor trombettista che il suo apporto insomma è stato anche determinante in certi dischi di quell'ambito anche solo dagli isotope stesso anche dei tortoise nei dischi di jeff parker il chitarrista ecco quindi tutto lo scibile degli anni 90 del post rock di chicago ecco questo qui in the moment fu praticamente il primo album solista americano di macaia mcgraven è uscito questa poi una deluxe edition quindi neanche dei prezzi in più che è un doppio praticamente mastodontico in due cd che contiene praticamente già in fase non preparatoria già abbastanza matura il suo stile che appunto si rifà un po anche alla poetry di di gil scott harron dei last poets anche appunto post rock quello proprio più classico di generazione tra i giochi dei tortoise e pian piano insomma qui si incominciano già a intravedere anche le sue strade diciamo gezzofile gezzofile e colte che però verranno messe meglio a fuoco nei dischi successivi questo qui appunto uscì per la etichetta proprio è creata quasi ad hoc che era la international anthem recordings nel 2015 su cui presenti uscirono tutte le sue tutte le sue uscite discorrafiche questo disco qua insomma spiegarlo non è tanto facile perché sono parecchi pezzi però ecco su spotify dovrebbe esserci io l'ho ascoltato un po' adesso velocemente giusto per tirare giù due righe ma vorrei parlare però però più di questo soprattutto comunque questo è un ottimo disco da avere del disco successivo che è del 2018 universal beings che già la quartina abbastanza eloquente anche appunto di sta politico e fa capire bene anche insomma un po quelle l'atteggiamento diciamo riot ma riot non nel senso che va lì a fare le barricate però insomma di prese politiche abbastanza abbastanza precisa no quindi anche solo gli scontri non so appunto anche per cui l'epoca di di trump e i muri make american greats again tutte queste stronzate qui insomma vabbè insomma un po' parafasciste suprematisti già bianchi e chi più ne ha chi ne metta noi qui abbiamo vabbè abbiamo quei due tizi che ben sapete chi sono una sta al governo l'altro qua barbetta di reggio e moccolo che io non sopporto neanche lo nomino perché mi si secca la lingua altrimenti ecco questo qui tiene praticamente ben quattro lati un disco singolo e c'ha ben quattro concerti una a new york una chicago una londra e l'altra los angeles praticamente gli stessi pezzi vengono a seconda del gig a seconda del concerto rifatti quasi da capo quindi ogni concerto fa storia a sé e anche questo è uscito per la stessa etichetta di quell'altro disco molto godibile molto gradevole per nulla scontato quindi non vi pensiate che è una cosa che potete ascoltare mentre prendete un lounge bar anche se la musica in certi sensi potrebbe anche essere un po lounge ma tutt'altro l'impronta è sempre comunque tra un un art ensemble of chicago che però fa post rock qui siamo sempre insomma su quel colto non colto ma colto accessibile accessibile ma non accessibilissimo è questa la la particolarità la la poca etichettabilità del della musica e del prodotto quindi quello che io vado sempre cercando nel nell'arte non stereotipato niente stereotipo niente aria fritta anzi una ventata d'aria fresca e abbinate questa recensione a quella precedente che uscita appunto ormai un'ora e mezza fa su adn2x alt e crystal testo detto questo penso che potete stare tranquilli spero almeno fino a stasera e fino a domani mattina quando poi magari vi verrà un'altra rotta lo scrivizzo e l'ispirazione che io devo essere ispirato a scrivere queste cose adesso chi ha ho tirato fuori sto facendo un po di spazio c'è il spazio sto mettendo in ordine un po in camera certe chicche manco ricordò più di averle e niente lo ripescate giustamente ho pensato subito di presentarle a voi affezionatissimi anche se siete pochissimi io lo so ma quei pochi per me valgono l'ho già detto 10.000 iscritti quindi se in realtà i miei iscritti sono 37 in realtà sarebbero 10.037 se no forse qualcosa di più perché no no sì 10.037 anzi forse anche 15.037 ok a prestissimo e ancora buon anno a tutti anche se è passato qualche giorno ciao ciao